Ciao a tutti ragazzi, nuovo video sugli assaggi, oggi assaggeremo il calippo australiano. Di cosa si tratta? Si tratta di questo. Come vedete appunto io ne ho scelto uno a caso, una marca a caso, Zuperduper. Questo qui è il gusto Red Comet, presumo che sarà il gusto fragola. Erano tra quelli economici. Che cosa succede qui in Australia? Il calippo ve lo vendono fuori dal freezer, diciamo nel reparto dolciumi questi si trovano. Quindi voi dovete arrivare a casa, mettervelo in freezer, aspettare qualche ora e poi andarvelo a gustare, ad assaggiare. Adesso vi farò un piccolo close up prima di metterlo in freezer e poi ci vedremo per l'assaggio. Eccoci qua con il close up. Come vedete questa qui è la marca, sono 70 millilitri. Qui vabbè sono a tema appunto spaziale, quindi anche il gusto è Red Comet, che presumo sarà il gusto fragola. Oppure potrei anche azzardare un gusto lamponi, ma non sono sicura. Qui c'è la quantità di energia per questo... per questa confezione. E poi comunque più sotto abbiamo appunto anche le informazioni nutrizionali, se a qualcuno interessa. E anche gli ingredienti, vedete acqua, zucchero e poi una serie di cose chimiche non molto salutari, probabilmente. Come vedete è fatto in Australia, da ingredienti australiani e anche importati. Adesso appunto questi qui vengono venduti in pacchetti misti, appunto io ho scelto di farvi vedere questo perché appunto era una cosa un po' particolare, avendo come gusto Red Comet, quindi non so che cosa... esattamente che gusto avrà. Adesso lo metto in freezer e ci vediamo tra qualche ora per l'assaggio. Ok, eccoci qua, tornati con il nostro calippo australiano. Come vedete è stato in freezer per un bel po'. Adesso andiamo ad aprirlo e andiamo ad assaggiare. Allora, intanto vi dico che ha il lampone e non ha la fragola, come pensavo inizialmente, avevo questo dubbio, quindi è al lampone. Non è male, però leggendo appunto, come vi ho fatto vedere prima, gli ingredienti, alla fine non è fatto con succo di lampone o sciroppo di lampone, è tutta roba chimica aggiunta semplicemente all'acqua, quindi diciamo che comunque sia io non è che me li ricomprerò. Adesso questi qui sono giusto per farmi una merenda veloce dopo il lavoro, per rilassarmi un pochino e per abbassare un pochino la mia temperatura corporea, visto che qui fa parecchio caldo. In ogni caso comunque sia non andrò a ricomprarmeli, piuttosto mi prenderò magari lo sciroppo a qualcos'altro, lo sciroppo del menta e mi faccio un acqua e menta. Per questo video è tutto, io vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social, in modo tale da potermi seguire in diretta nel mio viaggio qui in Australia e per vedere anche quello che faccio. Vi ricordo anche che potete, se il video vi è piaciuto, potete lasciare un mi piace e magari anche condividerlo, sarebbe molto importante per espandere, per farmi capire che mi sostenete. Se avete qualche curiosità o volete sapere qualcosa in più, potete lasciare un commento, cercherò di rispondervi o tramite un commento, oppure magari facendo un video ask, raccogliendo le varie domande che arrivano. Detto questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!